8 gennaio 2021, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa del mattino. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre e su tutti i nostri mezzi di informazione da Facebook, Internet, occhianotizia.it, ovunque ci guardiate, ci seguiate insomma, buongiorno a tutti voi. Allora partiamo dal salto di oggi, vediamo subito il calendario, oggi è San Massimo di Pavia, il sole sorgerà alle 7.46, tramonterà alle 16.48, vedete si allungano piano piano i giorni, di minuto in minuto. Andiamo a vedere adesso il tempo. Allora intanto è interessante vedere la grafica di oggi della protezione civile delle Marche che per i più attenti e quelli che hanno il televisore grande a casa, sicuramente avranno notato la neve mista a pioggia anche sulla parte settentrionale della nostra regione. Infatti in questi minuti, mentre vi stiamo parlando, se aprite, avete il coraggio di aprire le finestre, qualcuno nell'entroterra vedrà i fiocchi di neve. Allora, deboli precipitazioni diffuse durante la mattinata, in esaurimento ovviamente nel corso della giornata, i fenomeni potranno assumere intensità maggiore ridosso dei settori collinari, limite delle nevicate a quote appunto collinari e nei settori montani fino a fondo valle. Per quanto riguarda la giornata di domani non c'è molto da dire, se non che tutto l'appennino centro-settentrionale sarà interessato da nevicate in rialzo verso i 500 metri, mentre per la giornata di domenica a 10 avremo ancora precipitazioni diffuse, a fine giornata anche abbondanti, limite delle nevicate sempre attorno ai 500 metri, ad eccezione dei settori meridionali dove il limite rimarrà molto alto, vedete infatti sui Sibili, insomma la parte, le montagne del sud della regione avrà difficoltà a vedere la neve cadere perché ci sarà anche la pioggia, la situazione sarà diversa, mentre avremo un miglioramento poi dal giornata e dal lunedì in poi. Allora oggi i giornali si occupano, non poteva essere altrimenti, del vincitore della Lotteria Italia con i 5 milioni vinti a Pesaro, questa è la fotonotizia del resto del Carlino, caccia al vincitore dei 5 milioni, Lotteria Italia e il biglietto vincente venduto alla tabeccheria di Piazzale Lazzarini. Poi si parla anche della decisione che oggi il Governo prenderà sulle colorazioni delle regioni, le marche sperano di rimanere gialle, l'RT, l'indice di contagio è tra lo 0,98 e lo 0,99, ristoratori e albergatori invadono il comune, assurdo andare avanti così, e oggi incontreranno il sindaco di Pesaro Ricci. E ancora polemiche sulle scuole chiuse, caso scuole manifestanti sotto la sede della regione, loro protestano e dicono al posto di accoglierci e di ascoltarci ci mandano la polizia. Contagiati i medici e infermieri, a Urbino chiude il reparto di cardiologia. E poi è ufficiale, è nata Kairos, la compagnia aerea marchigiana. Sotto qui di taglio basso invece lo sport con il calcio, serie civis, l'attaccante è Gucci. Gucci è l'ex giocatore dell'Alma, mentre il Fano spunta un contagio, un giocatore che è rimasto contagiato dal virus. Mentre sul basket il rompicapo delle Final Eight, VL tra quinto e ottavo posto in caso di vittoria. Mentre il Corriere Adriatico apre anche qui con la fotonotizia del biglietto da 5 milioni venduto, vinto a Pesaro. Siamo la riceviteria della fortuna, questo è il virgolettato. E poi pronti per i test agli studenti, i medici, USCA e i laureandi rispondono alla richiesta del sindaco per lo screening anche dei docenti. Il distretto sanitario e il dipartimento di prevenzione in regia partiamo dall'esperienza di settembre. L'aeroporto Kairos Air, l'operazione è decollata con quattro soci. A Pesaro si verificano i bonus spesa, spunta il furbetto ma comunque è in buona fede. Pesaro, blitz dei ristoratori, strage di attività, qui non si riparte. A Urbino, sanitari contagiati, chiusa cardiologia, cani, aspetta rinforzi. Mentre il progetto a Fano per la ristrutturazione di tutto il lungomare, previsti due ambiti, a Fano parte il concorso di idee. E allora, noi invece partiamo dalle pagine interne della nostra rassegna stampa, dei nostri giornali. Andiamo sul resto del Carlino perché oggi si è un po' con il fiato sospeso per la questione delle colorazioni. Giallo, saremo gialle come regione, gialli o arancioni? Non si sa, vedremo oggi. Intanto Acquaroli dice l'RT è sotto a 1, rimango fiducioso. Il giorno della verità, l'indice di trasmissione del virus sotto la soglia, ma preoccupa la percentuale dei letti occupati nelle terapie intensive. Dunque il verdetto sulla collocazione delle marche arriverà con i dati del monitoraggio che saranno annunciati oggi. Il ministro Speranza, ogni decisione entrerà in vigore a partire poi dalla giornata di lunedì. Le marche hanno già sperimentato la zona arancione per due settimane, a partire da domenica 15 novembre. E la decisione scatenò le proteste della regione, ma contribuì ad allentare la pressione sugli ospedali. Che cosa ha detto il presidente Acquaroli, 46 anni, nuovo governatore delle marche? Il presidente che in questi giorni è stato al centro di alcune proteste per aver rinviato l'avvio della scuola in presenza a febbraio, conferma la necessità della scelta. Sono il primo a essere dispiaciuto, precisa, ma l'incidenza dei contagi è ancora troppo variabile. Superare quota 700 più volte nell'arco di una settimana indica che ci sono ancora numeri impegnativi. Nel frattempo abbiamo chiesto un aumento della fornitura dei vaccini, visto che in una settimana abbiamo terminato quelli che ci erano stati consegnati nel primo giro. Sempre dal Carlino, RT tra 0,98 e 0,99, marche da zona gialla, vaccinazioni, dati, record al Lab di Muraglia. L'occupazione delle terapie intensive resta sotto il livello riguardia. Perché record al Lab di Muraglia? Perché entro il 6 gennaio avevano già fatto, appunto a Muraglia, 1540 punture al proprio personale e continuerà anche oggi e domani con 60 vaccinazioni al giorno per arrivare a completare il maggior numero possibile di soggetti del settore sanitario. A quel punto ne mancheranno ancora 3-400 per chiudere il quadro. E quindi aver più o meno vaccinato tutti i dipendenti di Marche Nord, a parte quelli che volontariamente non lo vogliono fare. I numeri però appaiono impressionanti nel rapporto con Torrette di Ancona, con Torrette, dove al 6 gennaio si erano invece vaccinate 749 persone. Più arancione che giallo, la girandola dei colori appesa a RT e posti letto, il titolo del Corriere Adriatico, oggi il risponso da parte del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità su nuove fasce di rischio e misure restrittive. La base di partenza è discreta, ma la pressione sugli ospedali è tornata a salire. Intanto c'è un'intervista che il Corriere Adriatico ha realizzato con la dottoressa Nadia Storti, direttore generale dell'Asur, dove si fa il quadro dell'emergenza Covid, che è sempre più complesso, ma dopo i primi giorni in cui si è arrancato, le Marche hanno recuperato terreno nel piano vaccinale. Stiamo andando a regime, domanda chi? Martina Marinangeli del Corriere Adriatico. La risposta di Nadia Storti è sì, siamo migliorati nella classifica nazionale. A ieri eravamo in ottava posizione davanti a regioni come Friuli, Lombardia, Piemonte e Liguria. Abbiamo finora avuto due rifornimenti di vaccini per circa 9.000 dosi l'uno e siamo partiti con la somministrazione ai dipendenti delle aziende ospedaliere. E come è stata finora l'adesione del personale sanitario? Nella categoria dei medici la risposta è stata molto elevata, attorno al 75%, un po' più bassa, sul 62-63%, l'adesione degli infermieri ed è ancora più bassa quello del personale ausiliario. e le prossime 9.000 dosi quando arriveranno? Tra il fine settimana e la giornata di lunedì. Poi ci sono altre domande, altre risposte, tra cui anche quella un po' curiosa che dice la mia agenda vado dai 100 ai 400 chilometri al giorno, chi sta in corsia fa più o meno lo stesso. e con l'assessore ci scambiamo, arrivano sms anche le 5 del mattino. Ma probabilmente, ve la lascio per ultima come notizia, ma ormai lo sappiamo già tutti e dovremmo prepararci, la brutta notizia è che la terza ondata arriverà. È certo che arriverà e quindi dobbiamo essere, ahimè, pronti. Aiutiamo medici e infermieri a renderla contenibile. Sul virus, il virus che corre anche tra i banchi di scuola a Senigallia, sono 83 i positivi. A causa del Covid si trovano in isolamento domiciliare 194 studenti e insegnanti. Castelleone di Suasa è l'unico senza contagiati. Ieri è stato sospeso il servizio mensa alla primaria Fiorini per l'aumento dei casi. Andiamo invece adesso sull'altra pagina del... Ecco, poi torniamo e vi dirò anche quanto guadagnano i consiglieri regionali, il Presidente e quant'altro. Vedremo i redditi dei consiglieri. Adesso andiamo avanti con le pagine dei Covid. Allora, grave polmonite nei pazienti colpiti dal virus. Il farmaco testato da Marche Nord funziona. Si tratta della sperimentazione di un farmaco che è il Tocilizumab, che ha mostrato che c'è un netto miglioramento nella respirazione via la pubblicazione scientifica in una rivista. e la svolta, la polmonite multifocale è la causa più frequente di ricovero in terapia intensiva e anche di morte. Però la buona notizia è che sia Marche Nord che è la Politecnica, insomma, si è testato questo farmaco insieme ad altri prodotti farmaceutici sperimentati come lo studio del plasma iperimmune che lo stesso, lo ricordiamo, ha dato importanti risultati. Il farmaco è stato sperimentato qui nelle Marche ma anche il plasma iperimmune ha dato degli ottimi risultati e quindi questo ci fa comunque ben sperare. Mentre sulle scuole chiuse il resto del Carlino pubblica oggi a pagina 8 nella cronaca di Ancona ma anche nelle pagine interne dell'inserto di Pesero la notizia che c'è stata un'altra protesta, il secondo round di un'altra protesta del comitato marchigiano priorità alla scuola dove? Sempre nella scalinata del palazzo della regione. Questa volta però la regione ha mandato la polizia. qualcuno ha chiamato i poliziotti per tenerli un po' sotto controllo e loro se la sono un po' prese. Invece che riceverci dicono, mandano la polizia. Docenti, studenti e genitori del comitato sono tornati a chiedere al governatore di ritirare l'ordinanza. Quell'ordinanza che obbliga gli studenti delle Marche a rimanere a casa e quindi a fare didattica a distanza fino al 31 di gennaio. Poi si vedrà, ma avete sentito, abbiamo sentito poco fa la dichiarazione di Nadia Storti che è una che di Covid ne sa qualcosa e allora arriverà questa terza ondata. Quindi quando arriverà e soprattutto in considerazione di questo le scuole riapriranno oppure no, si naviga a vista chiaramente perché siamo lì a conteggiare i decimali 0,99, 0,98 ne basta uno in più, uno in meno per cambiare la vita di tante persone soprattutto di quelli che lavorano come anche gli insegnanti e gli studenti perché poi fondamentalmente per loro anche andare a scuola è un lavoro. E quindi questa è la situazione, navighiamo un pochettino a vista. Le Marche hanno invece la loro compagnia aerea, il Carlino. Primo obiettivo iniziare a volare da giugno. Ecco, questo è il tavolo dello studio del notaio Sabatini dove c'è stata la firma, l'atto ufficiale che sancisce dunque la nascita di queste compagnie aerea. Questa compagnia aerea che all'ultimo minuto ha cambiato nome da Adriavia a Kairos e Kairos abbiamo visto che dal greco insomma significa momento opportuno e prende il via con quattro imprenditori che hanno versato 100 mila euro. Insomma, ci sono buone possibilità che questa compagnia e noi le auguriamo davvero di cuore parta con le prime tratte, i primi voli, quelli su Roma e Milano. Subito dopo arriveranno Napoli, le prime due serviranno per collegarsi con gli hub più importanti del paese e al fine di collegarsi poi con il resto del mondo con voli internazionali. Una volta che va a Roma, una volta che va a Milano, ovviamente poi da lì partono per tutto il mondo. Quali sono gli aerei? Il Carlino pubblica la fotografia, sono con le eliche. La compagnia utilizzerà gli ATR 72, i più grandi della categoria, che potranno ospitare circa un'ottantina di passeggeri, compreso l'equipaggio. In tutto saranno due, con la possibilità di averne un terzo durante il periodo estivo. Il volo inaugurale, secondo, almeno nelle intenzioni della società, dovrebbe arrivare a giugno, se non ci saranno ovviamente lungaggini con tutti i permessi necessari da parte degli enti nazionali della versione civile e sperando che il Covid poi non provochi chiaramente ulteriori stop. Quindi questa è la pagina del resto del Carlino. Sotto è bene anche evidenziare quest'altra, sempre che riguarda questa notizia, dove nella fotografia parla la figlia dell'ex patron dell'Itavia, figlia di Aldo, patron dell'Itavia, morto nel 2006, che cessò di operare dopo la strage di Ustica del 27 giugno 1980, strage nella quale morirono 81 persone e che dovrà essere risercita dallo Stato per ciò che accadde dopo con il fallimento appunto di Itavia. E la signora Davanzali, Luisa Davanzali, che è la figlia appunto del patron dell'Itavia, ieri è stata tra i primi a diventare socio di questa nuova compagnia aerea, anche se con un piccolo dispiacere, visto che è stato cambiato appunto il nome da Adriavia, che ricorda appunto l'Itavia, che in qualche modo richiamava appunto l'esperienza imprenditoriale del papà. Questa invece è la pagina del Corriere Adriatico, bonus spesa, scattano le verifiche a Pesaro, spunta un furbetto, ma pare che sia in buona fede. L'assessore Pozzi dice l'autocertificazione funziona e permette di accelerare dunque i tempi. Lo sciamano di Trump, paragonato ai leghisti, bufera sul post di Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino, che ha pubblicato questa pagina, questa fotografia sulla sua pagina, insomma, di Facebook. Parole assurde, nel mirino l'accostamento fotografico fatto su Facebook, i rappresentanti del Carroccio adesso chiedono le sue scuse, mentre il presidente risponde, ho giocato sull'ironia per chiamare tutti al senso di una politica seria e alta. Scocca l'ora dei tamponi rapidi, siamo a Fano, oggi si parte, si parte un po' sotto la pioggia, si parte con un tempo da lupi, ma comunque ecco dove, come e quando farli. La giunta guidata dal sindaco Massimo Seri darà il buon esempio sottoponendosi al test. Le modalità per effettuarli, lo ricordiamo, non serve la prenotazione. E che cosa bisogna fare? Allora, intanto va detto che questi tamponi antigenici, da questa mattina a mercoledì 13 gennaio, si potranno fare al Codma e alla palestra Venturini. La giunta darà il buon esempio e si sottoporrà a questo test. Per evitare ai cittadini di aspettare inutilmente in piedi, in fila, ognuno sarà munito di un numeretto e attenderà comodamente in auto, verificando sui monitor posizionati all'esterno il proprio turno. Insomma, Fano siamo avanti, addirittura magari anche un caffè, volendo. L'assessore Fanesi, contiamo in una partecipazione massiccia, dice, della cittadinanza in tampone rapido, quindi lo abbiamo detto per i pesaresi, lo abbiamo detto per tutti, quindi lo invitiamo, qui giochiamo in casa, i Fanesi, anche se il tempo non aiuta, ma insomma organizziamoci e facciamo questo test. Soprattutto quelli che non hanno sintomi, perché quelli che hanno sintomi non possono andarci. Quindi se uno ha qualche mal di gola, tosse, eccetera, eccetera, stia tranquillamente a casa, non vada da nessuna parte, anche per togliersi il pensiero o il dubbio, non possono andare. Quelli che invece sono tranquilli, belli, pacifici, e non hanno problemi, si vadano a fare il tampone, perché, insomma, il tampone serve soprattutto per scovare quelli che non hanno sintomi, gli asintomatici, e quindi una volta eventualmente trovati positivi, stiano a casa e quindi in isolamento. Lungomare, tutto da ristrutturare, il progetto è suddiviso in due ambiti, stanziati 2 milioni e mezzo per il tratto urbano dall'Arzilla al Metauro e 1,5 per quello di Torrette, da Torrette Ponte Sasso. Mentre sul pronto soccorso, a Fano, sotto pressione, attese superiori a 24 ore, il Movimento 5 Stelle segnala pure la chiusura temporanea di psichiatria, e 118 sotto organico, perché ci sono anche lì i contagi. E della chiusura della psichiatria a Fano, si parla pagina 18 del resto del Carlino, Santa Croce, questo è il titolo, da fine anno chiusa psichiatria, dallo scorso 31 dicembre, servizio temporaneamente disattivato, a sollevare l'attenzione, il Movimento 5 Stelle, che chiede l'UMI al sindaco. Mentre sulla pagina 19, sempre da Fano, operazione Waterfront, via il concorso di idee, a fine estate si potrebbero conoscere i nomi dei make-up artists, che rifaranno il look, guardate quante parole inglesi, guardate, ve le segno tutte, guardate quanta roba, Waterfront è una, poi a fine estate, make-up artist, due, poi il look, che vabbè, quello sappiamo, però ecco, insomma, questo è un po' il modo ormai di parlare, e di scrivere soprattutto. E anche qua, al via lo screening dei tamponi rapidi, si vuole testare il 30% della popolazione fanese, l'indagine Covid coinvolge 5 comuni, postazione al Codma e alla palestra Venturini, invitati cittadini di Fano, Mondolfo, San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio. Chiaramente noi abbiamo invitati i fanesi, ma ci sono anche tutti gli altri che abbiamo appena citato. Il Comune invece concederà 1000 euro ai settori dimenticati dallo Stato. Bonus per chi ha subito crolli del fatturato almeno dell'80%, tra gli interessati ci sono i tassisti e le agenzie viaggio. Mentre sulla ciclabile e ferrovia, infrastrutture entrambi vitali, Ruggeri, Plaudo è il nuovo indirizzo scelto da Baldelli. Ristoratori e albergatori a Pesaro invadono il Comune, vogliamo lavorare, basta con questo caos. Una quarantina di operatori in municipio per parlare con Ricci. Non c'era, li incontrerà. Quindi oggi portate le nostre esigenze a Roma. Il tecnico di laboratorio a Fossombrone va in ferie. Tutte le provette dunque inviate ad Urbino dal 24 dicembre al 6 gennaio non è stato sostituito. Servizio analisi in forte ritardo per i tamponi. A Fossombrone sempre Villa invasa dai cinghiali. La protesta dell'ex sindaco Fabio Londèi lamenta il mancato risarcimento. Si perdono sul Monte Catri individuati nel buio e salvati. Disavventura per due giovani di Fano e Iesi. Intervengono i Vigioni del Fuoco e il soccorso alpino. Dalla Valcesano, Mondolfo, Carlino, rifiuti pagati 600 mila euro in più. Nel mirino del consigliere di minoranza Massimiliano Lucchetti gli ultimi tre anni. Poi sotto Cartoceto e Monbaroccio presidio per lo screening. Mentre per quanto riguarda prima di passare alle notizie sportive vi avevo annunciato la pagina dedicata alla dichiarazione dei redditi. Allora, quanto guadagnano? Dove lo trovo? Operazione Waterfront allora scuole chiuse dovremmo essere qua portate pazienza eccolo qua abbiamo qua quanto abbiamo? Qualche minuto? Sì. Allora, Regione il paperone Ciccioli o Ciccioli? Ciccioli? Non mi ricordo dove va l'accento ma comunque va bene. Marinelli il più ricco tra i maceratesi il consigliere del gruppo di Fratelli d'Italia dichiara 117 mila euro l'ex sindaco di Castelremondo terzo con 110 mila i consiglieri della provincia Leonardo a quota 53 mila Carancini a 49 mila nessun dato ancora su Acquaroli perché Acquaroli non ha pubblicato i suoi dati? perché aspetta di presentare tutto quanto all'Agenzia delle Entrate allora andiamo a vedere mancano all'appello il Presidente solo il Presidente Acquaroli per il quale il sito è presente unicamente sul sito è presente unicamente la situazione patrimoniale mentre per i redditi c'è l'impegno a pubblicarli contestualmente alla presentazione all'Agenzia delle Entrate allora vediamo quanto guadagnano quanto guadagnano partiamo da qua in giunta il Vice Presidente Mirko Carloni è quello che guadagna più dei suoi colleghi dichiarando 117 mila euro scorrendo le dichiarazioni pubblicate sul sito della Regione presentate nel 2020 e riferite a redditi del 2019 l'ex deputato Ciccioli ha dichiarato 186 mila euro mentre Cancellieri 125 mila e Marinelli 110 mila ma non tutti guadagnano tutti questi soldi qua per qualcuno c'è anche chi insomma non supera i mille euro in fondo alla classifica infatti ci sono l'imprenditore agrituristico e birraio Giacomo Rossi di Civitas Civici con 198 euro e la fabrianese Chiara Biondi della Lega con 679 euro in giunta invece dietro al vicepresidente Carloni c'è l'unica donna l'assessore Giorgia Latini che dichiara un reddito complessivo di 105 mila euro mentre la maceratese Filippo Saltamartini che è l'assessore alla sanità ha dichiarato 73 mila euro e poi c'è Stefano Guzzi con 34 mila 562 euro e l'altro pesarese Francesco Baldelli 13 mila 678 euro poi c'è il presidente del consiglio Dino Latini che dichiara 57 mila euro Andrea Biancani 53 mila euro e poi vediamo ancora se riesco a trovarne qualcuno tra quelli che conosciamo anche noi Nicola Baiocchi l'altro pesarese Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia 64 mila euro Maurizio Mangialardi ex sindaco di Senigallia 39 mila euro Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle 35 mila euro Luca Serfilippi 29 mila euro e poi ancora vediamo un po' Michela Vitri 13 mila 500 euro 500 euro insomma poi ce ne sono tanti altri che se avete voglia è così per curiosità poi bisognerà vedere quelle del prossimo anno dove entreranno i soldi che guadagneranno quest'anno stando in regione bene allora noi ci fermiamo qua per quanto riguarda lo sport giusto allora lo sport diamo uno sguardo allo sport allora le tre pagine sportive che abbiamo selezionato nella nostra rassegna stampa sono quelle che riguardano il Fano Fano che purtroppo abbiamo detto non è tranquillo perché tra i positivi ci sono positivi e anche infortunati Saeed ha il covid lo vedete nella fotografia Saeed mentre Marino attende l'esito del tampone Carnelutti e Parlati sono invece un po' acciaccati la situazione dunque è un po' complessa in vista della gara di Trieste e il mercato ancora non decolla mentre la Vis pesca l'attaccante ex calciatore dell'Alma Juventus Fano Gucci Gucci che insomma proviene dalla Pistoiese dove ha segnato ben tre gol sei l'anno scorso prima 10-13 alla Propatria e insomma andrà a rinforzare la Vis Farabegoli dice sono in partenza e va bene mentre per quanto riguarda il VL il basket ora devi solo osare questo è il titolo le Final 8 ti aspettano contro Brescia servirà una vittoria per evitare l'ottavo posto in chiave Coppa Italia e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi invito visto che oggi e nei prossimi giorni saranno giornate anche dal punto di vista meteorologico un po' complesse con la neve nell'entroterra la pioggia quindi vi invito a continuare a segnalare le vostre fare le vostre segnalazioni utilizzando il numero di telefono che vedete in questo momento sul vostro televisore quindi mandarci fotografie anche video ma anche video segnalazioni con voi che fate i reporter di strada così come vi invito a iscrivervi al nostro gruppo di facebook che è reporter di strada dove ormai siamo quasi a quota 8 mila iscritti grazie per essere stati con noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a ciao Grazie a tutti.